Siamo qua riuniti insieme a altre associazioni che appoggiano il nostro pensiero, il futuro del lungomare di Portici. Stiamo combattendo principalmente per la prima cosa importante e fondamentale, le scoglieri emerse. Senza la scogliera emerse non si potrà soffrire della spiaggia, perché spiagge non ne abbiamo. Non ne abbiamo a causa di queste scoglieri sommersi che istruggono l'arenile a differenza di molti altri. Poi abbiamo il problema delle varie fogne che ci sono. Voglio ringraziare innanzitutto tutte queste associazioni di volontariato che si sono prodigate insieme a noi al Comitato 2003 Arenili Medi e Rari per la salvaguardia degli arenili. Abbiamo cercato in parte di pulire tutto l'arenile e tutto il lungomare di Portici. Le nostre spazi dovrebbero essere un'organizzazione di gente più esperta, gente che fanno questo, cosa che purtroppo è mancante. Le amministrazioni future partecipano a questo evento, ma innanzitutto stabilire delle giornate, della settimana, al minimo una volta settimana, nel periodo invernale, di avere un po' di pulizia. Vediamo che in futuro questa cosa possa avvenire. La segretaria per quest'anno dell'Assemblea Spirituale Locale dei Bai di Portici. Il principio fondamentale che ci ispira è l'educazione, l'educazione in tutti i sensi, sia spirituale che materiale. E quindi abbiamo delle attività con i bambini e con i giornalissimi, ma anche con gli adulti, per far sì che da piccoli i ragazzi capiscono l'importanza del servire l'umanità. Ciao! 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 Grazie.